Tipo quando costerà sui 20 euro si Anche di meno, più o meno 20 euro Di certo non lo prendo a 70 euro Ah, volevo sparare cosa Il tank, ancora non ho trovato qualcuno da saper usare bene Fanculo Fanculo, colato velo da dietro Aspettatevi Aspettatevi Tio nel mirino Sì Ma lo so Non preoccupatevi Amici Sono il vostro scudo Nerf a questo Cazzo, cazzo Fatto un'uscita del cazzo, non duri Qui ne potrebbero rwyne Mi torrené Nu vivi No Vabbè come un cuo non lo c'è Vabbè No permettiamo di conquistare la zona Oh No 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 Oh Non posso smenare tutti Non è finita Non è finita fin quando non è finita Ok il tank non lo prendo più andò ah giù oto oto allo e va zucco Sì, sì. preparate l'edificio però io guardo ora Da cassa la puttana Questa cassa la defende 5, 4, 3, 2, 1, attaccanti in arrivo Potenziamento dei danni attivati Potenziamento dei danni attaccanti Danni maggiorati Perfetto Au Oh Ah Ah Oh Defendimi Brutostrof No Cosa fai? Sì 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 che mi stupro nessuno mi difende ahhhh 15 in metra provate a sussurrare questo si ahhhh 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 ahhh ecco qua giusto in tempo valkyria operativa mi sto prendendo cura di te mostri di ciò che è nascosto ho localizzato il nemico cecchino attenzione ahhhh ahhhh che non l'ha portato in vita? che non l'ha portato in vita? torno a combattere oh mo solo te cazzo Zegni Up è qui adesso siamo tutti soldati il marchio del drago Oh oh il carico la giunta il cattore Sywno Sywno Sswno Sywno il drago di un inviso sswno d d D C D D D 20 minuti sta cazzo di cena circa 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 Ok azione migliore della partita sensazionale sono tanti sono guarito Do it, do it. Ai fige. Anderò ahi, non posso usar. Alal martello. Alal martello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preparatemi ad accassare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mai combatterò fino al mio ultimo respiro. Ciao. L'attacco inizierà tra 30 secondi. La mia Ultra si sta caricando. Mi servono cure. Unitevi a me. Salve. Ciao. Da... La mia Ultra si sta caricando. Ti rendo onore. Perfetto. Perfetto. Capito. La mia Ultra si sta caricando. Sono contenta. Ragazzi, aggiungi. Quenti, dietro di me. La mia Ultra si sta caricando. Palmetto. Il Siamo tutti sull'obiettivo! Dobbiamo andare a conquistare A, dove cazzo è andata? Sto conquistando l'obiettivo! Provate a fermarmi! Anzi, al nostro servizio! E' il meglio che sapete fare! Porca troia! Ma ragazzo non dove cazzo è andata? Di nuovo ai pacchi al mondo! Gli eroi non muoiono mai! Ho come una sensazione di déjà vu! Venite fuori e affrontatemi! L'obiettivo è mio! Unitevi a me, se potete! Sto conquistando l'obiettivo! Provate a fermarmi! Ora il martello! Noi, non puoi! Noi! Chaggno!